Benvenuti in questo video, io sono Mau, sono appena educato in gaming e mi è arrivata questa semplissima schermata del torneo Frenesia Piccone Vi spiegherò nel dettaglio cosa significa questo torneo, cosa si potrà vincere, si perchè si vincerà una e-skin per la serie di cone esatto Vi spiegherò tutto nel dettaglio, innanzitutto abbiate di lasciare un like, un commento, un'iscrizione e supportami dal codificatore social Mau nei negozi oggetti fortalite Allora iniziamo così, qua ci dice torneo Frenesia Piccone, affida il tuo piccone prima di lanciarti nel torneo Frenesia di domenica 8 novembre Per una chance di vincere il 7, Lashland prima della pubblicazione, ebbene si ragazzi ci sarà un torneo come hanno fatto con Dare e David Ma questa volta ci sarà un carissimo youtuber, streamer, quindi che potrete vincere la sua skin Che sarà, che farà parte della serie di cone tipo ninja e tante altre skin, anche Dosefruit e anche altre Allora qua ci troviamo sul sito di Epic Games, ci dice, completi una frenesia del piccone di Lashland Dal team di Fortnite, è ora di mettere giù le armi e prendere il piccone Quindi ragazzoni molto probabilmente in questo torneo si vincerà il piccone Poi non lo so, anche tutto il set, la skin e quant'altro, andiamo a leggere bene il dettaglio Coppetti di Lashlands, Piccacs, Freezy a partire da domenica 8 novembre, questo che mi ho appena detto Per avere l'opportunità di guadagnare il set cosmerico di Lashman prima che arrivi nell'item shop Sì, quindi potrebbero vincere la skin di tutto diciamo Prima che arrivi comunque nello shop I vincitori avranno la possibilità di mostrare il costume di Lashland e il dorso decorativo Il piccone remote nel gioco prima di chiunque altro Holy shit, quanta roba Vabbè comunque ragazzoni, perché non riuscisse a vincerli Tutto questo set uscirà nei soggetti tranquillamente In questo torneo tu e i tuoi due amici, quindi entri io Dovrete trovare modi diversi per essere pieni di risorse Per guadagnare la vittoria reale Con solo un piccone come arma principale cerca le lattine arrugginite, le granate e impulsi Quindi ragazzoni, saranno una modalità in cui ci saranno solo lattine, granate e impulsi Quindi non ci saranno armi in realtà, non si sa Granate, poi dei consegni di formenti per proteggere la tua squadra e eliminare i tuoi avversari Ok Senza scudi oggetti curativi disponibili Ok Dovrai eliminare un avversario o un emote per rigenerare la salute Che significa un emote? Quindi ragazzoni, non abbiamo scedini, cure, medikit e quant'altro Ma ogni kill della nostra vita sale, ok Un'ultima cosa Il limite del materiale e la costruzione è impostato su 10 per materiale Quindi fa in modo che quelle build continuo Signore ma che cosa sta succedendo? Quindi abbiamo per ogni tipo di materiale 10 10 di legno, 10 di ferro, 10 di mattone Strano ragazzoni Leggi le regole ufficiali per frenesia dei piccoli launchman Di Launchland Guarda Launchland rivelare il suo vestito in streaming il 7 novembre Poco prima delle 7 Quindi ragazzoni, nostro carissimo Launchland svelerà in live in prima mondiale la sua skin Che così potremmo vederla Come competere? Vai alla scheda gareggia nella lobby degli giochi Scegli l'evento Launchland Pickaxe e trova l'ora locale Di indizio per la tua regione Ragazzi quindi noi adesso andiamo qua su competi Come potete vedere non c'è ancora il... Eccolo qua, invece sì Invece sì Allora, visto che abbiamo già finito di leggere tutto l'articolo sul sito Ci spostiamo qui Eccolo qua Frenesia piccone di Launchland Questo evento inizia tra 7 giorni Dettagli evento I giocatori milioni riceveranno il bundle serie icone Launchland nel termine dell'evento Guarda qui i dettagli per i vari dettagli che abbiamo appena detto Quindi torneo dal 7 all'8 novembre Buono Quindi ragazzoni avremo la possibilità di vincere una skin serie di icone totalmente gratuita ragazzoni Ci sarà una modalità a parte Secondo me è una cosa abbastanza bella Se avrò altre news ve la farò sapere più avanti Ma spostiamoci nel negozio oggetti signori Ovviamente sempre codice social maura Che soli ormai Che ve lo dico a fare Eccoci qua Ci abbiamo sempre il mito della tesca Della festa E' uscito anche lo stile di DJ Balvin Perché proprio ieri sera alle 2 di notte c'è stato il concerto Quindi ragazzi è una cosa bellissima Abbiamo la gente del caos Bombardiero scuro Tutto il set dei magnifici corvi Poi abbiamo Sterli Ascia porchiata Intensità Alza il tetto Ordinario e amministrazione Sempre centro E poi qua abbiamo tutto Tutti i set Di Halloween Detto tutto ciò Grazie alla visione Da me E' tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Bella raga